Torna con un'importante novità, un nuovo logo, Librixia, che richiama appunto l'etimologia latina del libro ma anche della nostra città e un densissimo programma con autori di caratura nazionale, alcuni dei quali bresciani, li abbiamo voluti, che ci fossero da Camilla Baresani a Fabio Volo, a Emanuele Severino, fino ad arrivare a case editrici locali, le piccole editorie e poi il ritorno dell'editrice alla scuola, dell'editrice morcelliana all'interno di un circuito che è la fiera del libro. Con la collaborazione di Confartigianato, credo che sia i di tanti sponsor, degli amici dell'associazione Leggio, credo che sia uscito veramente un buon programma, densissimo per tutti i gusti, inizierà sabato, ovviamente questo fine settimana e si concluderà domenica 12 ottobre. Quindi siamo molto soddisfatti di questo salto di qualità che abbiamo fatto.